buongiorno a tutti questa mattina sono in versione nonna papera sto facendo le ferratelle le ferratelle che è un dolce tipico abruzzese e che a base di un impasto a base di uova zucchero e farina la particolarità è che si cuociono con un ferro particolare variamente decorato dunque ferratelle è il nome che gli diamo noi aquilani e poi a seconda della parte d'abruzzo in cui siete si chiamano anche pizzelle cancelle neole però l'impasto di base è sempre lo stesso quindi come vedete questo è il ferro ci si mette un po di impasto nel centro e poi si chiude il ferro questo non è un ferro elettrico è un ferro manuale quindi io lavoro sul gas prima di cominciare a fare le ferratelle le faccio scaldare il ferro nel frattempo che preparo l'impasto in modo che le ferratelle subito si cuociono in una maniera uniforme prima di metterci diciamo la prima ferratella giusto ci faccio una passata di olio con un tovagliolo per non farla attaccare e quindi i ferri sono di diversa come vi dicevo di diversa fattura per esempio ci sono dei ferri che fanno queste che non sono waffle vi prego non chiamateli waffle e in questo momento sto facendo queste vedete al retro della ferratella per esempio questo ferro ha questa piastra questo perché perché una volta diciamo le il ferro per le ferratelle faceva parte del corredo di una ragazza e si diciamo si tramandava di famiglia in famiglia appunto questo ferro in genere il papà della ragazza a quella piastra che vedete ci scolpiva le iniziali della figlia quindi alcuni ferri diciamo più antichi potete trovarli anche con il papà messo troppo in pasto pazienza potete trovarli anche con le iniziali che è una cosa molto bella le ferratelle è un dolce che si fa diciamo quando si ha tempo soprattutto perché come vedete il ritmo è molto lento e per diciamo oltre che per la casa anche per donarle alle persone a cui ci si tiene perché come vedete è questione di tempo e di pazienza fare le ferratelle non è un dolce che si può fare quando si affetta una particolarità quando ho imparato a farle che a mia nonna le dicevo quanto tempo deve cuocere una ferratella per come facciamo ad accorgerci che la ferratella è cotta e mia nonna mi rispondeva un ave maria da una parte un padre nostro da un'altra e la ferratella è pronta questo ovviamente succedeva quando il tempo non aveva significato non si misurava il tempo in ore minuti ho risbagliato di nuovo ne ho rimesso tanto di impasto bene non mi regolo che ho il telefono in mano per fare il video e non mi regolo vi dicevo quando non le ore minuti non avevano significato perché il tempo si misurava in stagioni tempo di raccolte tempo di semina quindi ecco non aveva senso dire un minuto da una parte un minuto da un'altra quindi questa è una delle cose belle quindi le nostre nonne diciamo quando facevano le ferratelle intanto si dicevano anche il rosario che anche questo era un modo di meditare noi oggi ce lo ricerchiamo l'angolo meditativo questo era la meditazione delle nostre nonne oltre a per esempio il lavoro a maglia ma di questo ne parlerò un'altra volta quindi l'impasto io vabbè in questa io impasto ho 12 uova comunque diciamo partendo da un impasto di 6 uova io metto 6 uova intere 6 cucchiai di zucchero e 8 cucchiai di farina a volte quando ho il limone ci metto il succo e la buccia grattugiata del limone ho dovuto stoppare il mio suono del telefono quindi come vi dicevo 6 uova 6 cucchiai di zucchero 8 di farina quando ce l'ho quando ce l'ho in casa insomma ci metto il limone sia spremuto che di buccia grattugiate oppure come in questo caso ci ho messo un liquore alla cent'erba e per noi aquilani la cent'erba è unicamente la cent'erba toro ovviamente però insomma voi potete mettere anche che so la sambuca l'anice insomma a gradimento io come dice mio figlio faccio le ricette a occhio non si dovrebbe fare lo so però le ferratelle le faccio così anche perché diciamo che è una sorpresa ogni volta vengono in una maniera diversa quindi prendiamoci la sorpresa ecco bene vi ho parlato di ferratelle oggi e provateci a farle questi ferri si trovano soprattutto questi questo è un perro vi faccio vedere è questo qui praticamente vedete ci sono dei cuori quindi con una ferratella ci escono 55 ferratelle in uno ecco io ne ho fatti un po così perché questi sono ottimi per la colazione perché dentro a questi coretti ci entra bene la marvellata e anche così queste ferratelle sottili per esempio nel periodo natalizio le usiamo noi riempirle da sempre da queste parti si chiamano le coperchiole perché sono appunto riempite e ricoperte e le riempiamo con la scrocchiata che è la diciamo una specie di marmellata fatta con l'uva a tempi di raccolta di uva oppure con i noci di mandorle tostati tritati e impastati con il miele una vera bomba calorica però vi assicuro che è una delizia del palato bene vi lascio questa è una è venuta piccolina perché io ho il telefono o lavoro e alla prossima volta ciao ciao e non ho resistito lo so che vi avevo già salutato ma nel frattempo siccome era presto ho fatto anche le ferratelle col cioccolato e un pizzico di paprika e quindi volevo farvele vedere e questa è la sambuca cent'erba che vi dicevo che ho messo alle ferratelle quelle bianche bene e queste sono pronte per i nostri ospiti dei viaggi di penelope vi starate chiedendo che cosa sono i viaggi di penelope viaggi di penelope un progetto di lavoro che abbiamo creato che abbiamo creato io e vanessa una mia amica che è una guida di montagna e vi starate chiedendo ancora che cosa ci fa una che lavora a maglia con una guida di montagna e abbiamo diciamo ideato appunto questo progetto che unisce il trekking con il knitting niente di più bello niente di più bello a nostro parere è un'idea che è nata così piano piano tre anni fa e abbiamo cominciato a sviluppare questo è già il terzo anno e proprio domani parte il primo del 2021 che cosa viaggi di penelope appunto è un trekking che diciamo ripercorre le antiche vie della lana quindi percorreremo un tratto del reggio tratturo quello che dall'aquila portava a foggia e poi passeremo anche alla bassa valle a terno la valle su bequana per toccare i paesi di bominaco di fontecchio san pio di fontecchio e le pagliare di fontecchio ma di tutto questo vi parlerò in questi giorni ve ne parlerò in questi giorni perché appunto domani partono i viaggi di penelope e vi metterò per il momento il link sotto a questo di video se siete interessati abbiamo una pagina facebook che si chiama i viaggi di penelope anche un canale youtube e anche su instagram quindi potete seguire le nostre avventure per il momento vi saluto veramente e anche se vi state se siete rimasti ancora a chiedervi che cosa ci fa una che lavora a maglia con una guida di montagna sappiate che il lavoro a maglia senza sempre gini A presto A presto